Lui è lì in fondo, è il mitico salutatore del blog, eccolo lo vedete, sta scendendo verso i fori imperiali, il Colosseo, da Via Cavour, passo pesante ma che indica forza, indica sicurezza, eccolo qua, il salutatore del blog, yeah, in diretta da Via Cavour che sta scendendo dai fori imperiali. Cominciamo a salutare, tutti i corritori della Maratona, nome e cognome, iniziamo col primo, Mario Rossi, sono 50.000 quando arriviamo, non lo so quanti sono, senti, allora aspetta, altri 20 secondi di video, ecco siamo qui fatti vedere con lo sfondo dei fori imperiali, il salutatore Christian alla conquista dei fori, del Colosseo, al tuo segnale? Scatterà Scatenò lì? L'infè? Non lo diciamo Non lo diciamo Top secret Ciao